Sì, da Catania, dai! No, grazie, grazie a tutti, ragazzi! Grazie, fate forte, perché poi dopo sapete che per oggi non si può fare più quello che facciamo sempre. Siamo dietro le pinte di Viva Rai 2, sempre insieme con il nostro Antonello. Ciao! Fede, ci siamo per! Il programma di Viva Rai 2 sta continuando. Questa mattina tantissima gente, perché è l'ultima puntata, Amadeus è che sta facendo Marco Mengoni. Io mi trovo al primo piano, ce l'ho fatto salire sul primo piano, da figuranti. Così, abbiamo Celentano, che sono io, Antonello Venditti e Fedez Fantozzi, sosia. Eccoci qui. Primo piano di Aveluccia dell'interno, in finestra, a Viva Rai 2. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò io a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Che tu non dormi, dove sarai, dove vai, quando la vita può esagerare. Tutte le cose, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Non so che tu non dormi, 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 dormi mai. I giri fanno più vite. Qui al Pita Chissi di Fiorello, nel bar. Sì. Vieni in un camper vecchio e malandato, che ci goleggia come in un carro armato. Quando tu vedo sei passato, la gente diceva un circo è arrivato. Tutto colorato, che cosa suona, che ci suona? Dai fai, sai cantare, fai i pezzi di Celentano. Vai, circo, fiorello tutto l'anno e l'ipotiso. Allora, abbiamo il mago qui, perché la giacchetta è da mago, non può essere altrimenti. Una magia con 3G, però 3G, magia con 3G è quello qui. Abbiamo una catena. Ma scusate, una cosa, la moglie riesce a incatenarla? No, la taglio a metà. La taglio a metà, quel gioco dei pezzi. Lei che cosa rappresenta con 3 occhiali? Io sono l'uomo del futuro, sono amico degli extraterrestri, sono stato preso nel 2012. E dove l'ha vissi? Davanti o dietro l'ha visto? Sono stato preso sull'astronave, sono stato su da loro. Signora, buongiorno. Oh, buongiorno. Chi rappresenta? Ma io rappresento me stessa. Ah, ma è una questione di yoga, di pensiero, di dedicazione? No, io sono una mandrillona. Ah, una chi? Una mandrillona. Eccolo qui, i vecchi ricordi vecchi. A chi no? Sì, la mia stannuti. In 2017, dico la fiore, Joe Wayne con la sua chitarra. Ma la chitarra dove l'ha lasciata? A casa. È sempre quella, eh? È sempre quella. Oh, in mezzo ai sosi abbiamo una bella signorina. Ah, che sosa è lei? Io non sono nessuna sosa, io sono una panghera. Ci faccio un passo di tango, vai. Passo di tango? Sì, aspetta. C'è appena un pappagallo, guarda. Guarda, pappagallo, guarda qui, guarda qui. Vai, vai, vai. Oh, ecco, schifo. Adesso andiamo al portiere qui, vediamo un po' i condomini qui vicino. Come si risponde il portiere? È una condomine? Sì. È contenta che hai finito tra i due, eh? No, mi dispiace moltissimo. Ti dispiace? Perché avete messo il cartello, avete messo proprio la... Non l'ho messo. Però la maggioranza condominiale decide. C'è stata maggioranza. Grande che ho visto a lui, eh? Eccoci qua. Topo bigio, 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 bigio. Bigio, bigio, bigio. Ti fa un pochettino di cartoni animali. Mi riconosci? Dimmi un po'? Qualche volta mi hai invenzione? Sì, occhialetti. Sì, occhialetti. Ho capito. Cellentano, abbiamo fatto. Cellentano, il finto Cellentano. Cellentano, U2L. Cellentano, Cellentano. Io bigio con due G. Grande animatore. Siamo anche cartoni animali. Siamo anche cartoni animali. Comunque siete entrati proprio in sintonia. Sì. Come fai ad entrare in sintonia con quello là? Nonostante... Abbiamo un po' di solo, ma poi c'è il tempo per dormire. Ci sta ricevendo Fiorello. Privileggiati che vengono venditi, eccetera, eccetera. Tutti i sossi a... No, però io sono curioso. Voglio sapere chi è. Chi è colui? Angelo Cipiani. Paracetamolo. Videoclip di Calcutta. Sento il cuore a mille... Però... Però deve mangiare qualche cosa, un po' di più, perché... Gli sono rimasti solamente i capelli, gli sono rimasti. Ma lo sai che me l'ha detto anche Max? Giussi me l'ha detto. Mi sono incuriosito perché la vedo molto... Dice Mangelo, ma... Jefferson, Jefferson, Jefferson. Ci siete? Guardatemi. Allora, tanto faccio qua. Infilatevi qua dentro, bravi. Oh, oh, oh. Infilatevi... Sta per il video, sta per... Vabbè, ma infilatevi, attenzione. Si, infilatevi, vi lascio a lei. Non siete tutti, eh? Allora, scusate, ora ci fate una foto con questa qua, sempre con questo. No? Però... Dobbiamo fare... Intelligente. Un po' accosciato. Accosciato. Una fila accosciata. Una... Esci, esci, esci. Apri. No, papagallo. Medi che c'è il papagallo. L'eliminatore è più scherzo del mondo. Un po' accosciato. Ciao, ciao Fiorello, numero uno! Numero uno! Vai, vai, vai! Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle chiave chiare. Le ragazze sono più belle, se si affrontano anche quelle. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle chiave chiare. Le ragazze sono più belle, se si affrontano anche quelle. Vai, vai, vai! Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle chiave chiare. Le ragazze sono più belle, se si affrontano anche quelle. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle chiave chiare. Le ragazze sono più belle, se si affrontano anche quelle. Le ragazze sono più belle. Signore e signori, come in ogni cosa, in ogni spettacolo, c'è la fine. Quindi stanno smontando letteralmente tutto. Allora che mi saluda! Allora che mi saluda! Allora che mi saluda!